il signore ci benedica ancora questa sera per mezzo della sua parola voglio leggere nell'evangelo di luca al capitolo 19 dal verso 41 quando fu vicino vedendo la città pianse su di essa dicendo o se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace ma ora è nascosto ai tuoi occhi poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte abbatteranno te e i tuoi figli dentro di tre e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata amen fin qui la parola del signore oggi pomeriggio lo spirito santo mi metteva davanti questo passo della scrittura è un passo assai importante ed è un passo dove noi possiamo vedere la sofferenza che c'è nel cuore del signore quando vede rovina distruzione e desolazione in mezzo al suo popolo la città di gerusalemme è una bellissima figura del regno di dio nei nostri cuori e poco prima di andare alla croce il signore proprio prima circa una settimana prima pianse rivolto verso gerusalemme e questo pianto era dovuto gloria al nome del signore a ciò che gli vedeva imminentemente abbattersi su quella città e ho riflettuto un po sulla condizione del popolo di israele del popolo di dio su gerusalemme sui dintorni ma in un modo particolare su gerusalemme dove c'era il tempio dove veniva espressa la religiosità il culto e tutto ciò che concerneva la fede e ho pensato che all'occhio umano c'era tanta bellezza c'erano belle mura c'era un bel edificio di culto vi era il sacerdozio vi erano i sacrifici vi erano le feste vi erano i nuovi luni vi era il sinedrio vi erano tante cose che all'occhio umano sembravano bene vi erano tante cose possibilmente che sembravano trasparire benedizione ma dio non era d'accordo con tutto ciò e sapete perché 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 il popolo era caduto nella religiosità il popolo del signore era appunto come ho detto scaduto 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 e non riusciva ad andare oltre quei riti gloria a dio per la legge per i patti per la legislazione per le feste ma dio voleva qualcosa di più ciò che dio ha sempre cercato nella sua creatura è la comunione è un rapporto intimo e personale con tutti e in un modo particolare con i suoi figli con coloro che sono chiamati popolo di di sappiamo noi che il signore in mezzo a tutti i popoli scelse abramo ed abramo generò una grande nazione per come aveva promesso al suo servo al profeta abramo appunto egli ebbe una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che sta lungo il lido del mare gloria al signore quindi questo popolo si sviluppò per volere ed elezione divina ma c'è un grande ma gloria al nome del signore il popolo di israele non ha riconosciuto il tempo in cui è stato visitato da di e non mi riferisco soltanto gloria al signore all'incarnazione del cristo ma mi riferisco a tutti quei profeti che dio nell'arco dei secoli ha suscitato e ha inviato al popolo sappiamo cari amici cari fratelli che molti di questi profeti furono uccisi altri perseguitati alcuni imprigionati ma il messaggio di dio non riuscì a penetrare nel cuore del popolo e in un modo particolare non riuscì a penetrare nel cuore degli anziani e non riuscì a penetrare nel cuore dei sacerdoti ma perché 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 il popolo ormai era così attaccato a quel retaggio giudaico era così attaccato a quelle feste a quei nuovi luni alle tradizioni che era diventata un'abitudine fare determinate cose ora noi sappiamo che quando dio mette davanti a noi delle cose materiali c'è sempre un messaggio spirituale possiamo bellissimo parlare dell'agnello pasquale no? quando l'eterno istituì la pasqua e quell'agnello prefigurativamente di cosa ci parlava? se non del sacrificio di Gesù eh? di quel sangue prezioso benedetto il nome suo quindi dio attraverso la legge che è ombra dei beni futuri benedetto il nome suo ha voluto dare degli insegnamenti spirituali al popolo quindi il popolo non si doveva solo soffermare su ciò che occhio vedeva e che mano toccava ma doveva andare oltre perché ciò che loro vedevano e avevano imparato attraverso il retaggio della legge attraverso i profeti attraverso ciò che era il canone della parola di dio li doveva trasportare ancora di più ad avere una comunione intrinseca con dio dovevano essere stimolati ad andare oltre dovevano essere ingoraggiati a portare quanti non conoscevano l'unico vero dio creatore di tutto l'universo c'è l'eterno dio degli eserciti a lui questo era il compito della nazione di israele portare all'ubbidienza e alla fede di tutte le persone gloria al nome del signore come un po' oggi la chiesa il compito della chiesa è questo è portare anime ai piedi del signore portare anime alleluia al cospetto dell'unico vero dio che è creatore di tutto l'universo l'unico che ha il potere e l'imperio su ogni cosa ma non è facile cari amici cari fratelli infatti il popolo di israele ha fallito la sua missione ed è appunto come dicevo prima non soltanto caduto in una religiosità fredda e sterile ma altrettutto è caduto nel sincretismo il sincretismo era come tutt'oggi c'è purtroppo anche nel mondo cristiano il convivere di diversi culti cioè accogliere ogni insegnamento accogliere ogni cosa avere consensi avere numeri avere forza avere denaro avere possibilità ma quando si hanno tutte queste cose si va a perdere fratelli e sorelle quella luce gloria al Signore che Dio ci comunica e per mezzo dello Spirito Santo e il popolo di Israele purtroppo come abbiamo detto fa lì noi amiamo e benediciamo Israele e preghiamo per Israele e sappiamo che Israele è quell'ulivo domestico in cui siamo stati innestati noi i gentili i pagani eh che siamo chiamati l'ulivo selvatico ma vi dirò che gloria al nome del Signore come scritto in Efesi capitolo 2 Gesù dei due popoli quindi c'è stata sempre una distinzione netta fra i giudei e i gentili quindi dicendo due popoli diciamo tutti i popoli ma Gesù dei due popoli ne ha fatto uno quindi la Chiesa e quando dico Chiesa non mi riferisco ad una denominazione o a un ministerio particolare ma mi riferisco a tutti coloro che sono stati lavati nel sangue di Gesù hanno ricevuto lo Spirito Santo ed ubbidiscono alla parola di Dio senza sé e senza ma è una Chiesa nascosta ma è una Chiesa che manifesta la gloria di Dio è una Chiesa che manifesta l'amore di Dio è una Chiesa che manifesta i carismi è una Chiesa che manifesta alleluia la sapienza del Signore e come scritto anche gli angeli imparano dalla Chiesa cose misteriose cose in cui bramano penetrare con i loro sguardi benedetto sia il nome del Signore alleluia quindi la Chiesa oggi è l'Israele di Dio e spero che la Chiesa non fallisca come fallì il popolo di Israele ma che riesca in questi tempi che sono stati definiti dagli apostoli tempi difficili e più di duemila anni fa si diceva che quella generazione era una generazione alleluia adultera era una generazione peccaminosa era una generazione terribile e gli apostoli appunto quando predicavano il Vangelo che non è zucchero il Vangelo non è zucchero il Vangelo è medicina è medicamento alleluia quando si riceve il Vangelo è vero noi abbiamo una grande gioia nel cuore ma poi iniziamo a bruciare perché la parola del Signore va a allenire va a curare va a purificare tutte quelle piacche e tutte quelle ferite che noi abbiamo subito e ricevuto a cagione del peccato il messaggio di Dio è un messaggio che sconvolge come furono sconvolti gli abitanti di Gerusalemme non solo con l'incarnazione del Cristo quindi del Messia ma anche prima quando nel passato apparivano dei profeti straordinari perché io questa sera voglio porre l'accendo su questo che tutti coloro che parlano nel nome del Signore attraverso l'unzione dello Spirito Santo sono persone straordinarie sono fuori dal comune e credetemi cari ve ne sono pochi oggi come è stato anche nel passato che sono disposti veramente a dare la vita per la causa di Cristo Gesù molti hanno sposato altre cause ma coloro che hanno sposato la causa di Cristo sono pronti a dare la vita per lui alleluia e a manifestare agli altri la fede nell'unico vero Dio creatore di tutto l'universo cosa diceva l'Eterno al suo popolo quando inviava dei profeti e semmici Dio ingoraggiava il popolo ad uscire fuori dal peccato Dio ingoraggiava il suo popolo a continuare a credere nelle sue promesse Dio ingoraggiava il popolo ad aspettare quel Messia tanto atteso perché tante volte cari amici cari fratelli non è facile aspettare i tempi di Dio perché Dio magari si rivela per mezzo dello Spirito Santo riceviamo magari una parola profetica o un qualcosa che ci tocca ma poi c'è sempre la testa e se noi non abbiamo quella dedizione nella preghiera se non lo aspettiamo in preghiera cosa che è assai difficile può capitare che ci stanghiamo e ahimè forse come Abramo dimentichiamo ciò che il Signore ci aveva promesso eh Dio aveva promesso ad Abramo un figlio ma molti anni dopo questa promessa ancora non si era dempiuta Abramo era venuto meno aveva commesso degli sbagli perché è difficile rimanere fermi nella posizione di fede di fedeltà è difficile e allora un giorno disse Dio ad Abramo dice Abramo io sono lì Dio onnipotente si integro e cammina alla mia presenza alleluia e il cuore di Abramo fu sincerato il cuore di Abramo fu liberato il cuore di Abramo fu incoraggiato a perseverare gloria al nome del Signore e Abramo difetti ne aveva tanti ma aveva una grande fede ed era un uomo che sapeva vedere e riconoscere quando il Signore lo visitava e tu fratello sorella sai riconoscere quando il Signore ti visita eh gloria a Dio perché la visitazione di cui ti voglio parlare stasera non è soltanto la visitazione del Messia eh come abbiamo detto in in questo testo dell'Evangelo ma è qualcosa di più è qualcosa di più gloria al nome del Signore e io penso per quello che vedo e per ciò che discerno per mezzo della parola perché il nostro discernimento non deve essere frutto della nostra fantasia o del nostro bagaglio magari siamo convettiti da tanti anni e pensiamo di avere un bagaglio grosso gloria a Dio per questo però non possiamo noi discendere attraverso il nostro bagaglio ma dobbiamo discendere attraverso la parola del Signore la Bibbia la parola di Dio è il metro con cui noi possiamo misurare possiamo vedere possiamo discernere la parola di Dio è l'unica arma che noi abbiamo contro la menzogna perché ci sono molti che dicono di parlare nel nome del Signore ma sono falsi vi sono falsi pastori vi sono falsi apostoli vi sono falsi profeti vi sono falsi dottori ma non lo dice Giuseppe Fornali lo dice la Bibbia e noi dobbiamo stare attenti dobbiamo discernere sempre per mezzo della parola cari ed è per mezzo della parola che noi possiamo riconoscere quando il Signore ci visita ed è qualcosa di meraviglioso e io sono sicuro che Dio a molti li ha visitati li ha visitati durante la notte spesso alla notte capitano dei pensieri si è turbati non si riposa a volte il cuore batte si pensa alla famiglia si pensa alla salute si pensano a delle problematiche che dobbiamo affrontare a breve o a lungo raggio ed è proprio in quelle notti è proprio in quei momenti in cui noi non abbiamo neanche la forza di pregare che Dio ci visita in un modo particolare e lo Spirito Santo inizia a comunicare qualcosa alla nostra parte più intima e la parte spirituale perché noi abbiamo una tripartita natura gloria abbiamo un corpo ma abbiamo altresì un'anima ed uno spirito gloria al nome del Signore e non a caso siamo stati fatti a immagine e somiglianze di Dio padre figlio e Spirito Santo solo Dio benedetto in eterno e noi creature preziose privilegiate in tutto il creato anima corpo e spirito anche noi abbiamo una tripartita natura gloria al nome del Signore benedetto e Gesù e quando lo Spirito parla parlo dello Spirito di Dio parla nella nostra parte spirituale la nostra parte spirituale è quella parte che gode comunione con il Signore è quella parte che si unisce al Signore è quella parte gloria a Dio che quando i nostri peccati sono perdonati quando i nostri peccati sono cancellati quando il documento a noi ostile quindi tutto ciò che ci condannava e ci malediceva viene ingiodato sul duro legno della croce proprio quella parte viene risuscitata da Dio perché dirà appunto l'Apostolo che tutti noi eravamo morti nei falli e nei peccati ma siamo stati risuscitati con Cristo per sedere con Lui nei luoghi celesti gloria al Signore quindi è nella parte spirituale che noi riceviamo qualcosa di particolare e poi subentra l'anima dal greco la psiche quella sfera intellettuale che va ad afferrare a comprendere a capire la rivelazione di Dio come dire ma Dio cosa mi vuole dire? ma Dio cosa mi vuole comunicare? e gloria al nome del Signore ma Dio cosa mi vuole fare capire? perché Dio sì ancora oggi parla e parla in un modo straordinario nella parte più intima della nostra vita e gloria a Gesù ci sono molti credenti che non aprono mai la Bibbia ci sono molti credenti che hanno la Bibbia è impolverata ed ormai è diventata un suppellettile e poi chiedono a Dio di parlare anzi ci sono alcuni che pretendono e di Dio mi deve parlare ma fratello sorella la Bibbia tu la apri la Bibbia tu la leggi la parola la vivi o sei soltanto uditore della parola? no perché se tu sei soltanto uditore della parola e stai ingannando te stesso sicuramente non puoi ingannare Dio che vede ogni cosa anzi davanti a Lui noi siamo come un libro aperto e gli leggi nelle righe più profonde della nostra anima ci conosce sa tutto di noi o magari possiamo pensare di ingannare un pastore o una persona che è preposta alla nostra cura ma sappiatelo che non possiamo mai ingannare i Dio abbiamo bisogno veramente come il popolo di Israele di ritornare alla parola abbiamo bisogno veramente di ritornare alla preghiera perché io credo che in un modo particolare la Chiesa in questi tempi è chiamata a fare la differenza è chiamata a manifestare la gloria di Dio alleluia noi non siamo chiamati fratelli e sorelle a fermarci noi non siamo chiamati fratelli e sorelle a vivere una gloria al Signore una religiosità noi siamo chiamati cari fratelli e cari sorelle a manifestare la pace di Dio e la parola di Dio noi non possiamo essere come Gerusalemme chiusi non possiamo noi non possiamo soltanto amare il nostro servizio ci sono alcuni che innalzano l'uomo a volte si innalzano i conduttori si innalzano le chiese o la musica o questo o quell'altro no fratelli e sorelle noi dobbiamo innalzare soltanto Gesù e le persone devono vedere che noi manifestiamo la parola di Dio e soltanto così cari nei nostri cuori il regno di Dio veramente è saldo perché se noi non camminiamo per mezzo dello Spirito Santo sicuramente cammineremo per mezzo della nostra carne un po' come il popolo di Dio come Israele e il Signore vedeva quella città bellissima quel tempio straordinario tutti quei luoghi di culto a cui gli israeliti erano attaccati fortemente e gloria al Signore e distrutti perché a volte c'è un pericolo grande il pericolo è che noi amando troppo qualcosa può succedere che quel qualcosa è diventa un idolo e prende il posto di Dio gloria al nome del Signore non sia così fratelli e sorelle no, non sia così noi non dobbiamo amare qualcosa in un modo particolare da essere presi alleluia e perdere quell'attenzione che noi dobbiamo rivolgere soltanto a Dio perché Dio deve avere il primo posto nella nostra vita egli non accetterà mai il secondo posto nel terzo, nel quarto ma egli desidera il primato e sapete perché? perché egli appartiene perché egli è re in tutto l'universo governa ogni cosa mediante la sua parola e gloria al Signore alleluia ed egli vedeva quella città desolata vedeva quei monumenti quel tempio il centro della spiritualità del suo popolo distrutto egli vedeva la fine di quella città il capitolare di quel popolo gloria al Signore vedeva quando nel settanta circa dopo Cristo appunto i romani che distrussero quella città e come egli aveva profetizzato perché il Signore alleluia quando prese un corpo umano ed esercitò un ministerio straordinario racchiuse tutti i ministeri esercitò tutti i ministeri e in questo caso come un profeta stava profetizzando e diceva appunto questo dice e non rimarrà pietra su pietra che non sia abbattuta dice io vedo delle trincee scavate e vedo questo quell'altro e c'era un lamento c'era un pianto gloria al Signore oh in un altro passaggio dice oh Gerusalemme come avrei voluto raccoglierti come la chioccia e raccoglie i suoi pulcini fratelli e sorelle cari amici e amiche che state seguendo questa diretta quante volte il Signore ha voluto raccoglierti quante volte il Signore ha voluto abbracciarti quante volte il Signore ha voluto portarti sulla via della pace ma tu non hai voluto anzi sei andato nella via della guerra sei stato ricalcitrante perché in fondo in fondo il tuo cuore non è pienamente arreso a Dio ci sono molti che dicono di essere ma ormai dopo tanti anni di esperienza io non mi baso più su ciò che dicono le persone ma su ciò che fanno gloria a Dio su quel frutto che deve essere nella vita di ogni vero discepolo del Cristo quel frutto dello Spirito gloria a Gesù non dice i frutti ma il frutto quando lo Spirito Santo prende possesso di una persona per mezzo del sangue di Cristo va a governare ogni area della sua vita e allora viene naturale da comportarci come figli di Dio ci viene naturale amare ci viene naturale esercitare l'autocontrollo essere pazienti essere umili come leggiamo in Galati c'è un elenco e se lo Spirito governa la nostra vita noi abbiamo questo frutto e quando sono attorno a noi ne possono beneficiare e riconoscere la presenza coloro che sono in Cristo non hanno bisogno di presentarsi noi non abbiamo bisogno di dire di essere evangelici ma noi abbiamo bisogno di dire che siamo discepoli del Messia quel Gesù di Nazareth alleluia figlio dell'uomo figlio dell'uomo e figlio di Dio l'unico che ha vinto la morte gloria si è resa al suo nome non abbiamo bisogno di presentazione perché le persone che abbiamo vicino sentono in noi qualcosa di diverso non vedono una religione cos'è la religione ci sarebbe tanto da dire ma voglio fare un sunto dico la religione è la tradizione degli uomini si deve fare questo e quell'altro si deve fare in questo e in quest'altro modo no, fratelle e sorelle le persone sono stanche di sentire parlare di chiese e di religione di riti di questo e di quello le persone hanno bisogno di vedere la luce di Dio quella luce che illumina il mondo che si chiama Gesù Cristo gloria al nome del Signore Gerusalemme fu visitata tantissime volte e chi legge la Bibbia lo sa eh l'Antico Testamento sa cosa io sto dicendo ma quando Gesù venne nella carne fu qualcosa di particolare assai perché quando Gesù Cristo appunto si incarnò il Dio fatto carne il logos la parola e proprio in quel momento si adempirono tantissime profezie e il diavolo iniziò a tremare gloria al Signore tanto è vero che voi sapete che già da subito eh Giuseppe e Maria dovessero andare in Egitto perché sapete la storia cercavano la vita eh di Gesù quando era ancora in fasce piccolo piccolo eh il diavolo cerca sempre di uccidere per chiudere la bocca alla verità perché la verità è l'unica arma che abbiamo contro la menzogna la verità è l'unica medicina che guarisce che libera gloria al Signore molti chiedono a Dio una guarigione una liberazione un miracolo ma non sono disposti a lasciare il peccato quindi di conseguenza sono ancora nella menzogna e se sei nella menzogna sei nelle mani di Satana piegati piegati rigetta tutto ciò che non è da parte del Signore perché egli ti parla gloria al Signore in una maniera intima personale ti visita e io credo che questa sera Dio per mezzo di questa parola di questa trasmissione gloria al Signore sta visitando tanti cuori come visitò Gerusalemme sta visitando tanti cuori questa sera in un modo particolare sta visitando tante case sta visitando tante famiglie io ti dico caro alleluia che tu se obbedisci a Dio avrai un futuro rosio splendido come scritto nei profeti dice se mi obbedirete mangerete i cibi migliori del paese e Dio ci vuole donare il meglio ma sta a noi fratelli e sorelle di poter obbedire alla sua voce non è facile fratelli e sorelle perché per poter veramente obbedire al Signore e divenire i Suoi seguaci dobbiamo fare tre passi fondamentali e di cui ha parlato Gesù e il primo è uno rinuncia a te stesso fratello sorella vuoi seguire il Signore ed essere benedetto rinuncia a te stesso il secondo prendi la tua croce fratello sorella anche la tua carne deve essere distrutta e attaccata al chiotro quindi prima la rinuncia a noi stessi al nostro ego al nostro modo di pensare di fare di dire l'abbassamento l'annichilimento e poi iniziare a vivere la vocazione del cristiano e come disse qualcuno dice i discepoli di colui che ha portato una corona di spine non possono pensare di portare una corona di fiori anche noi come abbiamo alleluia parte alla gloria dobbiamo avere parte anche alle sofferenze del Cristo quindi dobbiamo prendere questa croce eh gloria di e il terzo è il seguitare le orme di Cristo dobbiamo iniziare a camminare come Gesù camminò dobbiamo iniziare ad amare come Gesù amò dobbiamo iniziare a manifestare la potenza e la gloria di Dio come Gesù fece e manifestò ma queste parole non sono utopia non sono cose irrealizzabili gloria al Signore sono cose fattibili per chi crede e si unisce al Signore dopo questi passi c'è un'unità e come dice l'Apostolo dice che coloro che si uniscono al Signore diventano uno spirito unico con Lui quindi nelle sue mani diveniamo strumenti canali meravigliosi con cui Dio parla e visita molti cuori perché il Signore ancora oggi ama visitare ancora oggi ama parlare ancora oggi ama salvare il desiderio di Dio è salvare egli non vuole alleluia che l'Embio muoia e vada nel soggiorno dei morti prossimo al giudizio ma egli vuole alleluia che tutti siano salvati mediante la predicazione della croce e dell'Evangelo gloria a Gesù e il nostro compito come dicevo un antico servitore è soltanto parlare e pregare fratelli sorelle credenti parliamo e preghiamo il resto lo farà il Signore dice a noi il parlare e il pregare e a Dio il salvare ed egli sa come salvare come liberare come guarire come benedire alleluia oh gloria al Signore dice quante volte Gerusalemme avrei voluto raccoglierti quante volte avrei voluto curarti proteggerti liberarti eh ma tu non hai voluto perché Gerusalemme ti sei tenuta stretta stretta la tua religiosità fratello sorella lascia la religiosità perché quella religiosità ti porta a guardare gli altri eh con un occhio che non è limpido eh non è illuminato la religiosità tante volte ci porta a giudicare piuttosto che amare eh ci porta a scagliare quelle pietre che volevano scagliare su quella donna adultera ma e Gesù gli disse dice chi è senza peccato e scagli per primo la pietra fratello sorella tu sei senza peccato non credo tutti noi veniamo meno in molte cose quindi liberiamoci da questa religiosità che ci porta ad innalzarci e a farci ergere pensando che noi siamo migliori degli altri perché non lo siamo fratello e sorella siamo tutti salvati per grazia e ciò si ottiene mediante la fede e la parola grazia sappiamo tutti che vuol dire appunto dono il meritato Signore ci benedica con questa parola stasera e sicuramente so che il Signore attraverso questa visitazione cambierà qualche cuore che è che 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 Grazie a tutti